. Uomini e donne Gossip Sara Affifella, Nicola una nuova fidanzata. Uomini e donne Gossip, Sara Affifella, chi è la nuova fidanzata di Nicola Panico di Temptation Island. . Mentre Sara Affifella sta cercando l'anima gemella a Uomini e Donne, Nicola Panico sta frequentando un'altra ragazza. A farlo sapere il sito di Isa Echia, che ha ricevuto la segnalazione di una persona che abita nello stesso paese dell'ex protagonista di Temptation Island. . Nicola sta frequentando una compaesana, di professione ballerina. . Al momento il nome e l'età restano top secret. . Ma il calciatore ha confermato il gossip attraverso il suo profilo Instagram. . . In particolare l'ex della nuova tronista di Maria De Filippi ha ribadito che ormai la relazione con la modella è morta e sepolta e che anche lui è riuscito ad andare avanti. . In molti mi avete scritto che sono un'ipocrita, che sono un furbo eccetera e... credo che una persona avrà tutto il diritto di rifarsi una vita dopo due lunghissimi mesi. . . Di errori ne ho fatti tanti, ma mai come questo periodo mi sento a posto con l'amicoscienza ha fatto sapere Nicola Panico in una storia di Instagram. . . Lo sportivo non ha aggiunto dettagli sulla sua nuova storia d'amore. . Forse vuole attendere ancora un po' prima di uscire allo scoperto. . Come reagirà Sara alla notizia? Solo qualche settimana fa Nicola ha apertamente criticato i corteggiatori dell'ex fidanzata Uomini e Donne. . Un gesto che per molti provava l'interesse ancora forte del ragazzo nei confronti della modella e studentessa. . Alla fine, però, Nicola ha preferito andare avanti e cercare un nuovo amore. . Perché Sara e Nicola di Temptation Island si sono lasciati. Sara e Nicola si sono lasciati a Temptation Island. . . La napoletana non ha apprezzato il comportamento di panico con la tentatrice Antonella Fiordelisi. . . Dopo la fine del programma i due sono tornati insieme e sono andati a convivere. . Ma poco dopo la Fifella ha capito di non amare più il fidanzato e l'ha mollato. . . . . . . . .